Ciao ragazzi, come state? Eccoci arrivati finalmente al giorno dell'estrazione del giveaway per i 2000 iscritti che a quanto pare adesso siamo aumentati, siamo arrivati a ben 3600 iscritti, quindi wow, veramente ragazzi, grazie di cuore sono davvero contenta che questa famiglia stia così crescendo e veramente grazie, grazie che è tutto ovviamente merito vostro e sono veramente troppo contenta per questo, quindi vi ringrazio davvero di cuore per sostenermi, per seguirmi e niente, allora adesso andiamo a vedere chi è il vincitore di questo giveaway allora vi ricordo velocemente le regole, allora ovviamente prima bisogna essere iscritti al mio canale con l'iscrizione pubblica in modo tale che io possa andare a vedere se siete iscritti o meno al canale mettere mi piace al video del giveaway, anche questo che io possa vederlo ovviamente essere maggiorenni o chiedere il permesso dei genitori perché appunto il vincitore dovrà inviarmi un'email con il suo indirizzo, i suoi dati personali proprio per inviargli il pacco che lo spedisco io a mie spese con il corriere quindi da quando il corriere viene a ritirarlo in teoria in uno o due giorni lavorativi ce l'avete già a casa altra cosa, si poteva lasciare un commento al giorno ma solo uno infatti ho impiegato un pochino più di tempo oggi per registrare questo video perché a parte che sono stata a lavorare oggi ma anche perché mi sono messa a controllare i commenti anche se erano dei commenti molto carini ho dovuto alcuni cancellarli perché erano più di uno al giorno quindi non rispettavano le regole e non era giusto nei confronti degli altri partecipanti quindi se vedete qualche messaggio vostro cancellato mi dispiace ma ho dovuto appunto cancellarlo per quanto veramente mi dispiacesse perché alcuni erano davvero molto carini e niente allora quindi questo è tutto ora passiamo alla zona computer dove vedremo appunto l'estrazione del vincitore o vincitrice in bocca al lupo a tutti e a dopo allora ciao ciao eccoci quindi davanti al computer questo è appunto il video del giveaway ora seleziono l'intero link di copia utilizzo questo programma che è youtube random comment picker inserisco qua il link del video e poi load comments quindi caricherà i vostri commenti perfetto quindi ha caricato 447 commenti e sono divisi in 5 pagine ora basta cliccare semplicemente il bottone e scopriremo il vincitore quindi andiamo ok il vincitore è Katia S con 5 commenti ciao cara metti sempre regalini molto appetitosi la tentazione è tanta adoro i video dove fai vedere acquisti e comunque mi rilasso vedere le tue mani muoversi perché qualche volta non condividi anche il tuo sorriso grazie di tutto allora vediamo subito Katia se ha messo l'iscrizione pubblica e il mi piace al video allora vediamo subito iscrizioni cerchiamomi eccomi qua quindi l'iscrizione c'è perfetto ora passiamo a vedere torniamo indietro se ha messo mi piace al video quindi video piaciuti vediamo se c'è quello del giveaway ed eccolo qua benissimo allora complimenti Katia quindi allora benissimo Katia hai vinto tu complimenti scrivimi sulla mia email che è lunamarinaofficialchiocciolahotmail.com i tuoi dati per vincere cioè per ricevere perché ormai hai già vinto per ricevere il grande pacchetto del giveaway ancora complimenti complimenti a tutti per aver partecipato io vi ringrazio davvero di cuore perché stiamo veramente diventando un gruppo, una famiglia grande e questo è merito vostro sono davvero molto felice state connessi perché come sapete ci saranno altre novità altri giveaway e niente allora grazie di cuore e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao